Per il sindaco di Capua è stato un anno di lavori di manutenzione e di messa in sicurezza. Intanto la viabilità, si stanno asfaltando alcune vie, domani ripartirà l'intervento in via Le Tappani e si stanno completando i lavori di pulizia delle condotte in via Delpino e Corso Millo. In totale, spiega il primo cittadino, sono stati eliminati 200 tonnellate di materiale. Presto si passerà anche in piazza Rupinaro. A breve i cantieri apriranno anche in via Prandina per migliorare la regolamentazione del traffico. Verrà istituita una rotatoria e verranno anche realizzati dei marciapiedi allargati e allungati per la messa in sicurezza dell'uscita dei bambini dalle scuole solari. L'intervento complessivo a base d'asta di 220 mila euro e in corso il bando di gara presso l'ufficio contratti, l'ufficio regale del comune di Chiavari. In fase di studio aggiunge Di Capua i lavori al campo sportivo a 11 in colmata. Abbiamo stanziato 500 mila euro, la gara è ancora in corso, è stata fatta una prima apertura delle buste, c'è stato un ribasso del 17% che dovrebbe essere la ditta che vincere ai lavori, però le procedure sono ancora in corso. Ci sono anche i lavori di ristanamento di Palazzo Rocca, a vincere la gara una società di mestre che si occuperà del rifacimento della copertura e del prospetto nord dello storico edificio. 998 mila euro le ha messi il comune, 250 mila euro le ha messi il ministero, la soprintendenza del ministero dei beni culturali, a breve partiranno presumo anche i lavori, la direzione aspetta la sovrintendenza, l'architetto Pastor insieme all'architetto Luciano Maggi. L'opposizione critica però questo primo anno di Di Capua. Per l'ex sindaco Levaggi la giunta fa le piccole cose ma non riesce in quelle grandi, c'è immobilismo, spiega, la gran parte dei lavori sono pratiche ereditate, per il resto non sembrano esserci nuove idee. Dello stesso avviso Cama del PD che dice ok, lavori di manutenzione, ma manca un'idea complessiva e condivisa della città, ad oggi spiega, mancano i grandi progetti e cita depuratore, pucche, gestione delle piazze e dei parcheggi e così via.